Do il benvenuto al dottor Giaccardi dello studio Giaccardi Associati che ci parlerà di innovazione e di nuove opportunità di business per l'offerta del Salento e Puglia 365. Benvenuto. Grazie. L'ultima volta che ho parlato in pubblico avevo esordito dicendo buongiorno Lecce, oggi vorrei dirvi buongiorno Puglia, spero che questo aiuti la collaborazione tra di noi. Mi occupo di turismo da diversi anni in una logica diversa e integrata, non faccio solo turismo, mi occupo di analisi strategica e il mio lavoro consiste nell'individuare eventuali punti di debolezza di una destinazione, di un territorio, di un sistema, di un gruppo di imprese e trovare delle possibili soluzioni. Quando abbiamo collaborato con Puglia Promozione a fine dell'anno scorso, del 2015, scoprimo questa cosa molto interessante e cioè che a differenza di quello che ingenuamente io stesso pensavo, il turismo Puglia, anzi il business dell'accoglienza della Puglia, per citare il professor Dallara, è a traino città d'arte anziché traino mare. Questa sequenza di dati è molto chiara, avete delle ottime performance a livello internazionale, ma come vedete tutto ciò che è città d'arte, è il quadrante sottostante in basso circondato dal tratteggiato verde, cresce molto di più addirittura della destinazione mare e soprattutto i volumi della destinazione città d'arte stanno superando i volumi della destinazione mare. Questo è di ottimo auspicio per gli intendimenti strategici della regione Puglia e allora poniamoci tre domande fondamentali. La prima, il turismo può essere una leva di crescita di un'economia economica e sociale e non solamente un fattore di vendita di camere, di vendita di posti letto o di vendita di posti al ristorante. Il turismo può essere un'industria annuale sostenibile, come è stato detto in precedenza, destagionalizzazione o meglio, come si dovrebbe dire, può essere un'attività all seasons. E infine il turismo può essere un'opportunità di lavoro qualificato per i giovani, visto che viviamo in un paese in cui la disoccupazione media degli under 35 è di quasi il 40% e con alcune regioni che hanno delle punte che superano il 50%. Sapete che negli ultimi 5 anni è raddoppiata l'emigrazione dei giovani sotto i 35 anni e se ne vanno via quelli che hanno più possibilità e hanno anche il curriculum di studi maggiormente voluto. Bene, cominciamo a ragionare. Io farò un ragionamento con voi, non ho soluzioni preconfezionate, anzi se è possibile avete piacere di fare delle domande di approfondimento, mi rendo volentieri disponibile a dare delle risposte il più possibile e rapide, perché non possiamo prenderci più tempo di quello che ho segnato. Con i box sulla sinistra ci sono i trend di un periodo di una serie storica, statistica abbastanza lunga, di 8 anni, ed è il modo migliore per fare delle valutazioni che siano pertinenti e credibili, in cui possiamo vedere che il turismo è un mercato spumeggiante, in crescita del 28% a livello mondo, del 15% in Europa, del 18% in Italia, del 17,5% in Puglia e del 26,1% nel Salento. Se poi traduciamo questo tipo di trend anche dal punto di vista dei comportamenti del turismo internazionale abbiamo altrettanti indicatori positivi. La Puglia e il Salento hanno dei numeri spettacolari, è evidente che sono state fatte delle politiche orientate al mercato internazionale che hanno avuto delle risposte molto significative. La Puglia cresce in questi 8 anni di oltre il 72%, il Salento di addirittura quasi il 90%, quasi raddoppi agli arrivi internazionali. Però notiamo che dal punto di vista del valore aggiunto, cioè di quanto chi viene qui spende per comprare beni del territorio, la situazione comincia a essere meno brillante di quello che potrebbe essere, cioè non c'è un'equivalenza tra i numeri degli arrivi e le percentuali di trend della spesa. La spesa media dei stranieri in Italia è del 14,4%, è cresciuta in questi anni del 14,4%, mentre la spesa dei stranieri in Puglia è diminuita di poco, ma un po' dello 0,9% e in Salento è aumentata. Questi sono i classici indicatori di monitoraggio delle performance turistiche. Ne mancherebbe uno che è il tasso di occupazione alberghiera, che non abbiamo considerato perché non ci sono dati omogeni tra queste diverse categorie di indicatori, però credo che sia sufficiente a dare un quadro interessante delle performance di un mercato, ricordatevi questa condizione, questo contesto di base, in potente crescita. Vediamo adesso l'analisi degli stessi fattori da un punto di vista strettamente economico-sociale. E qui le cose non vanno bene, è evidente. L'Italia e gli occupati della filiera turistica stretta, quindi intendiamo proprio solo le attività turistiche, alberghi, ristoranti e servizi collegati, non è la filiera allargata dove si è solito mettere anche le attività di artigianato artistico, gli eventi, le attività culturali e così via. Gli occupati in Italia diminuiscono nel 2,7%, sono otto anni, sono otto anni feroci della crisi strutturale scoppiata nel 2008, quindi è comprensibile che ci siano queste difficoltà. Ciò nonostante, veniamo però, guardate ancora i dati che avete sulla sinistra, siamo di fronte a un mercato internazionale che è iper spumeggiante, nel mondo il turismo cresce del 28%. Gli occupati in Puglia hanno ottenuto, sono anche un po' cresciute 2,6%, ma il saldo imprenditoriale è negativo. Che cos'è il saldo imprenditoriale? È la differenza tra le imprese cessate e le imprese nate. Quando nascono delle imprese in un settore, vuol dire che il settore sta bene, vuol dire che ci sono operatori, neofiti o comunque interessati a quel tipo di business che decidono di rischiare e di investire in quella direzione. Bene, questo saldo in Italia è leggermente negativo, in Puglia un pochino di più. Purtroppo, e questo è l'ultimo dato interessante, rilevante, perché è la ricchezza, i soldi che rimangono in un territorio che ospita quel grande numero di arrivi di persone fisiche, che poi si possono tradurre in presenze di più o meno giornate, il valore aggiunto è basso, molto basso. Quello della Puglia è molto basso, è meno 9%. Quindi le intuizioni che ci comunicava l'assessore Capone sul piano strategico, la necessità di fare un lavoro di modificazione e miglioramento della situazione è certamente molto interessante, certamente in un qualche modo dovuto. Quello che io vi vorrei segnalare è che se vogliamo fare del turismo, e rispondo alla prima domanda, una leva economica di crescita economica e sociale, noi dobbiamo tenere in parallelo questo tipo di dati. Non possiamo essere contenti solo dell'aumento degli arrivi delle presenze e non considerare il ritorno economico che abbiamo, perché se non c'è un ritorno economico coerente con la crescita di arrivi e presenze, noi abbiamo importato solamente caos. Abbiamo reso più complicata la vita dei residenti, abbiamo dato un'apparenza di attività ma non abbiamo prodotto un saldo positivo. Bene, adesso voglio cominciare questo ragionamento con voi. Qual è dunque il problema di fondo? La mia opinione è che il problema di fondo in un mercato internazionale così in crescita, sia che noi non facciamo, in modo adeguato, innovazione di offerta del prodotto. Che cos'è l'innovazione di offerta del prodotto? Se un mercato cresce significa che io devo diversificare. Se prima vendevo, probabilmente è giusto che aumenti la promozione delle città d'arte, aumenti l'organizzazione del territorio, per esempio con i itinerari turistici e culturali o quelli delle no gastronomie e così via, e che a sua volta integri dei servizi che siano capaci di trasferire ricchezza da chi compra un prodotto turistico a chi lo vende, cioè i residenti in un termiano territorio. Adesso però bisogna capire che tipo di innovazione dobbiamo fare, perché non basta dire che dobbiamo innovare l'offerta, dire che dobbiamo aumentare il prodotto, bisogna trovare un modo mediante il quale farlo, e dei criteri che abbiano senso rispetto a quel mercato internazionale in crescita. Adesso vi faccio velocemente una carrellata di immagini con una domanda costante. Che cosa hanno in comune queste immagini tra di loro? Questo è il castello dove ci troviamo adesso, se non sbaglio. Questo è il museo spartano di Taranto. Questi sono i trulli di Orbetello, una delle icone più tipiche e più note al mondo della Puglia. Questi sono i sassi di Matera, che in un qualche modo appartengono per l'immaginario di un cliente internazionale che non conosce esattamente i confini giuridici delle nostre regioni e delle nostre province, appartengono ad un'area di destinazione che fa certamente riferimento anche per la piattaforma ricettiva, per gli hub aeronautici, fa certamente riferimento alla Puglia. Questi sono i bronzi di Riace, che centrano con la Puglia. Bene, centrano nel senso che sono una delle altre grandi icone di quella che è la cultura classica del nostro paese nota nel mondo. Questo che cos'è? Questo è un artigiano pugliese che sta forgiando l'argilla per fare uno dei vostri prodotti tipici dell'artigianato pugliese, che è la ceramica pugliese d'arte. E questo che cos'è? Questo è il Politecnico di Bari. Cosa c'entra con il turismo, il Politecnico di Bari? C'entra perché è un hub di relazioni internazionali. In Italia abbiamo solo tre Politecnici, uno a Milano e uno a Torino, nati circa a metà dell'Ottocento, quando anche in Italia cominciò l'era della prima rivoluzione industriale, e molti anni dopo anche la Puglia si dotò di questo importante elemento di combinazioni, di saperi accademici e scientifici, di varie provenienze e competenze tecniche. Questo che cos'è? Cosa c'entra col turismo? Questa è la vostra, siete una delle piattaforme italiane della cultura aerospaziale, un'immagine puramente casuale, però è molto importante avere presente questo. Bene, che cosa mette insieme questa serie di icone che vi ho fatto vedere, che appartengono alla vostra cultura storica e contemporanea del vostro territorio, per esempio con questo signore, di cui nel 2019 ricorre il quinto centenario, e con quest'altro signore di cui nel 2020 ricorre il quinto centenario, e soprattutto, anche qui le sollecitazioni del professor Dallara sono molto interessanti, congruenti, con quest'altro signore. Questo è il signore che ha fatto una nazione, di cui nel 2021 ricorre il settimo centenario, e vi ricordo un dato importante, anzi ve lo dico dopo, adesso prima vi svelo, che cosa tiene insieme tutte queste immagini a forte così carica simbolica, alcune del vostro territorio, alcune di tipo universale, Leonardo, Dante, Raffaele sono geni italici che il mondo ci invita, e sono delle icone e delle culture universali. Bene, tutto ciò ha un matrice comune che ha un mercato mondiale che pesa per 230 milioni di italici, distribuiti in 28 paesi, di cui la metà a corto raggio, parliamo dell'Europa occidentale, alcuni a medio raggio, parliamo dell'Europa orientale, ed altri a lungo raggio, parliamo del continente americano, dell'Australia, ma parliamo anche di Asia. Che cosa sono gli italici? Gli italici, secondo un anziano studioso, oltre che esperto di questi problemi, Piero Bassetti, sono una comunità di sentimento, non sono cittadini italiani, non hanno il passaporto italiano, e solo in minima parte sono eredi dei nostri emigranti di terzo, quarto, quinta generazione. È una comunità di sentimento che è attratto dalla cultura italiana. Di questi 230 milioni, 170 sono appassionati della lingua italiana. La lingua italiana, per chi non lo sappia, è la quarta lingua più studiata al mondo, dopo il mandarino, lo spagnolo e l'inglese. Capite che razza di veicolo, di vettore, di sistema di correlazione possono rappresentare questi insiemi di fattori. Noi abbiamo studiato questo universo su base dati ONU in occasione di una ricerca che ci è stata commissionata alla fine del 2015, che abbiamo pubblicato all'inizio di quest'anno, e che abbiamo raccontato all'evento scientifico di Entere a Roma circa 20 giorni fa, e abbiamo scoperto che questi 230 milioni di italic people sono attratti da quattro motivazioni di viaggio precise. Il patrimonio culturale, la lingua italiana, lo stile di vita e il made in Italy. Non abbiamo pacchetti in Italia che mettano insieme questi quattro fattori di viaggio e non abbiamo la capacità di fare innovazione su questo livello. Abbiamo anche un ritardo di promozione su questo livello. E allora è opportuno fare una riflessione e trovare un metodo per lavorare su queste cose. Ma perché queste cose sono importanti? Qui abbiamo applicato degli indicatori statistici disponibili a chiunque di voi, qui sotto sono indicate le fonti. Avremo un potenziale anno di nuovi arrivi internazionali di 4 milioni e 700 mila persone. Un potenziale anno di 17 milioni di nuove persone in Italia, con un giro d'affari anno a livello di spesa turistica internazionale in Italia di circa un ulteriore miliardo. Ma la cosa ancora più interessante a proposito della connessione tra indicatori turistici e indicatori sociali è che se noi applichiamo il dato del WTTC di Londra che prescrive che a ogni 58 mila euro di fatturato circa c'è un nuovo posto di lavoro, vuol dire che noi ogni anno saremmo in grado di produrre 16.500 nuovi posti di lavoro nel nostro paese. Potete immaginare che avendo a che fare e con un pubblico che cerca patrimonio, lingua italiana, stile di vita, made in Italy, non abbiamo a che fare con un potenziale di occupazione solamente, con tutto il rispetto, di camerieri, baristi o guardiania. Abbiamo a che fare con la possibilità di impiegare chi è laureato in lingua, in lettere, in storia, in archeologia, oltre a chi è laureato in informatica, in architettura, e così via. Però è chiaro che bisogna fare un lavoro e allora adesso vi do queste ultime suggestioni. Guardate che se noi adottassimo di darci l'obiettivo come Puglia del 10% di quel mercato potenziale, vorrebbe dire che la Puglia avrebbe all'anno 470.000 nuovi arrivi. Quanti sono gli stranieri in Puglia consolidati? Chi lo sa? 500.000. Vuol dire che avremo la possibilità di raddoppiare questi arrivi e vi ricordo che la spesa media in Italia di un turista straniero è di 120 euro al giorno. Se ci facciamo i conti, vuol dire che noi abbiamo un potenziale di aggiungere ricchezza, radicare ricchezza nel nostro territorio per altri 95 milioni di euro all'anno, creando 1.700.000 nuove presenze, ma soprattutto generando 1.650 nuovi posti di lavoro qualificati all'anno. Questi posti di lavoro non sono, come dicevamo prima, robe banali o commodity, sono attività specializzate. Quindi è un'opportunità, a proposito del fatto che la Puglia ha lavorato, si sta dando, adesso non so a che livello di organizzazione siamo, anche un piano strategico della cultura, vuol dire che abbiamo la possibilità di generare un'epoca di creative industry, cioè di attività creative e culturali, organizzate e, come dire, integrate alla filiera turistica. In tutte le attività che oggi dominano il panorama delle e-tourings, dai big data, alla comunicazione web, alle attività multimediali, ovviamente fino all'attività spettacolari o di accompagnamento territoriale. Come si fa a portare a casa questo business? Ci sono quattro livelli di intervento che abbiamo scoperto. Il primo è che bisogna convenzionare le reti italiche. Cosa sono le reti italiche? Ne abbiamo sei. Uno è la società Dante Alighieri Nazionale. Chi la conosce magari si mette a ridere, pensa che sia una roba un po' imparruccata, muffita e molto polverosa. Non è vero. Questi signori hanno 407 sedi operative in tutto il mondo e, guarda caso, corrispondono a quei 28 paesi in cui troviamo i 230 milioni di italic people. Queste sedi producono in un anno tra gli 85 e i 95 mila iscritti a corsi di lingua italiana, di cui posseggono nome e cognome, numero di telefono, professione, e-mail e aspettative di conoscenza. Per chi si occupa di e-mail marketing, e senz'altro molti di voi se ne occupano, è un'opportunità interessante fare una convenzione con la regione Puglia, con la società Dante Alighieri, dove la società Dante Alighieri non è un tour operator, ma può essere aiutata a lavorare in termini di tour operating. ovviamente così come riconosciamo ad un qualunque tour operator commissioni a volte anche del 18-20% perché non fare un accordo che se la Dante Alighieri nel mondo ci aiuta e ci favorisce flussi di gruppi da Buenos Aires, da New York, da Tokyo, o da Mosca, o da qualunque altra parte hanno sede, noi diamo a Dante Alighieri un budget su cui fare promozione e noi incameriamo, importiamo nuovi cami internazionali. Un'altra rete, anche qui vi metterete a ridere per chi li conosce, però è una cosa altrettanto seria che gli stranieri giudicano più seriamente di quello che giudichiamo noi, sono gli 83 istituti italiani di cultura all'estero, non hanno una matrice comune, però il MAECI, che è il Ministero di Affari Esti e Cooperazione Internazionale, ha un budget di diverse centinaia di milioni per favorire la promozione della cultura dei made in Italy nel mondo, uno dei quattro fattori su cui dobbiamo lavorare, anche qui perché non fare una convenzione con questa grande rete della promozione della cultura italiana all'estero. Poi abbiamo le università per stranieri, ne abbiamo tre che lavorano in questo senso e che hanno ovviamente i terminali nei paesi esteri, sennò come farebbero ad accogliere in Italia degli stranieri che vengono a studiare l'italiano. E poi abbiamo scoperto che c'è un network di 13 radio-televisioni europee con programmi radio-televisivi italofoni, il che vuol dire che hanno bisogno anche di contenuti, di racconto radio-televisivo che a noi possono essere funzionali per promuovere patrimonio, culturale, stile di vita, lingua italiana e made in Italy. E poi abbiamo scoperto che esiste una rete di cui fa parte anche l'Università di Bari e l'Università del Salento di 19 università italiane con sedi all'estero. Capite che questi sono altri terminali di ingaggio o reti italiche di ingaggio all'estero di quei 230 milioni di individui. Poi dobbiamo innovare l'offerta. L'offerta si può innovare adottando quei quattro criteri di selezione dei beni materiali e immateriali che il territorio rappresenta e poi dobbiamo ingaggiare online e offline questa domanda. Qui è certamente l'attività classica di promo commercializzazione sulla quale non aggiungo niente perché siete tutti quanti bravi ed esperti ma che parte e si attiva su contenuti enormemente diversi da quelli che abbiamo a disposizione. Qui mi permetto di fare un piccolo inciso. se andate a vedere anche sul portale di Puglia Promozione che è fatto benissimo su Viaggiare in Puglia ma qualunque portale la Liguria l'Emilia Romagna la Toscana in realtà quando si parla di turismo culturale siamo di fronte ad una sorta di enciclopedia dei beni di quel territorio. Questo non è fare non è mettere a prodotto quei beni in termini turistici non è mettere a sistema un'offerta innovativa che non abbiamo per mettere a prodotto e mettere a sistema occorre avere un criterio il criterio è PLISM cioè orientarlo ad una possibile domanda che non abbiamo ancora soddisfatto. E infine possiamo utilizzare i tre centenari che vi ho fatto vedere prima con quelle tre immagini come una grande occasione per catturare nuovi flussi. È noto penso che anche il vostro assessore lo sappia che il governo sta predisponendo e qualunque governo ci sarà farà questo tipo di decreto legislativo state predisponendo un decreto per finanziare grandi eventi soprattutto di ordine culturale e scientifico attorno a quei tre centenari. Vuol dire che noi nei prossimi cinque anni 2019 con Leonardo Vinci 2020 con Raffaello Stanze 2021 soprattutto con Dante abbiamo di fronte un enorme luce un enorme faro che si accende sull'offerta culturale del nostro paese. È ovvio che questa cosa genere scatena a livello di incoming degli interessi anche da parte di tutti gli intermediari online offline assolutamente importanti e maggiori di quelli che abbiamo adesso e quindi abbiamo la necessità come operatori pubblici e privati di ingaggiare questo tipo di opportunità e questo è il modo per farlo. Su che cosa si potrebbe focalizzare l'attività della Puglia? Bene, se pensiamo allo scacchiere mediterraneo in cui la Puglia è inserita al centro non c'è non esiste non esiste e vorrei cercare di spiegarmi bene e spero di essere molto concreto perché non sto parlando solo di una cosa astratta non esiste una destinazione linetta piattaforma che promuova sistematizzi in base ad un possibile cliente che la compra e la classifichi con un prodotto fungibile e accessibile l'ingente offerta culturale dell'Italia meridionale e della Puglia bene avete l'occasione per primi visto che avete appena licenziato il piano strategico avete probabilmente anche le risorse per cominciare a guardare in questa direzione di costruire la prima piattaforma online e offline questo è il concetto di destinazione piattaforma Human Heritage and Travel del nostro paese e per questo le immagini che vi ho fatto vedere all'inizio non c'erano solamente i beni storici e culturali o i beni contemporanei della Puglia ma c'erano beni che guardavano l'insieme del paese e che si focalizzavano anche sull'insieme del mezzogiorno italiano abbiamo fatto un primo esperimento di questa metodologia da plism e l'abbiamo fatto siamo all'altra parte del nostro stivale in Piemonte dove abbiamo avviato un primo progetto di industry con la capacità di mettere insieme gli indicatori turistici con quelli socio-economici e abbiamo mappato in previsione di questi tre grandi centenari italici 49 asset da mettere a prodotto loro non hanno la tomba di Dante come a Ravenna non hanno il cenacolo come a Milano non hanno quasi nulla che riguardi Raffaello però è la mentalità orientata ad un mercato è la mentalità orientata ad un prodotto che interessa ad un mercato che consente di definire e di far emergere questo tipo di grandi opportunità qual è la cifra con la quale vi saluto e con la quale vi ringrazio di avermi ascoltato e mi scuso se sono stato un po' lungo secondo me il nostro paese e anche la Puglia e la Puglia secondo me ci sta ragionando su questa cosa dalle poche cose che so dobbiamo tornare a investire nella cultura dell'arte non possiamo vantarci delle nostre città d'arte che come abbiamo visto anche in Puglia sono un traino più forte addirittura del balneare e contemporaneamente chiudere o non finanziare l'Accademia di Belle Arti chiudere o non finanziare i corsi di design chiudere o non finanziare i laboratori in cui avviene creatività da parte dei giovani insieme anche con le generazioni precedenti vi riporto questo caso che abbiamo studiato appunto nell'esperienza di Italic People destinazione Piemonte a Torino esiste la più antica Accademia di Belle Arti d'Italia ne sono rimaste 20 di ordine statale bene insegnano 18 discipline analogiche e digitali con un corpo di 100 docenti fanno un corso universitario parificato nel senso quando esce è dottore in Belle Arti bene hanno 1750 iscritti di questi 650 sono ragazzi cinesi che oltre ai 5 anni di corso fanno un anno di apprendimento della lingua italiana perché l'italiano è la chiave di interpretazione della cultura del bello che il mondo ci ammira grazie ringraziamo il dottor Giaccardi grazie infinita per la sua presenza